Vivivamo alla giornata, non ci importava. La ricchezza non ha fatto mai felice a nessuno. Non dà i sacri che i soldi fanno felice alla gente. Non so che gente, non hanno felicità, non ci manca un mezzo. Ci piace mangiare bene e ci piace pure affaticare. Guardate che la mangiata bene ve la fate dagli operai, non dalla gente che ha i soldi. Io ho cresciuto 6 figli, non avevo 5 litri, 6-5 litri. Io e mia moglie trasportavamo il limone coppia di spalle. Mia moglie per la pancia di 8 mesi, per la sport di 60 kg sulle spalle. 8 mesi incinta, per la sport di 60 kg. Sono passati anni, giorni che non ci guardavamo nemmeno in bagno. Per la stanchezza che c'era. Non mi chiesto mai niente, mai. Sai che significa lavoro? Sai se tu sei senza lavoro? Che significa stare senza lavoro? Tenere i figli piccerelli? Perché i sacrifici sono da casa. Ma io sono i cori, che ne sai? E' una cosa che me la porto dentro, non lo sai. Si passa da uno, io sto mangiando. Ti accettavi a mangiare. Io ho mangiato di niente. Perché io ho mangiato. Perché non esiste che io mangi e tu mi guardi. Non esiste proprio. Non è proprio normale che uno mangi e tu guardi. Non esiste. Ma mangi tutto quanto. Dobbiamo mangiare tutti. Quindi la primavera che suocche è stato da breve, Io that's qua con i sareul ricche liberi G Who is ero? CCC